ciao sono enrico zanella sono il curatore del corso gypsy jazz performer qui a musicology questo corso rappresenta una vera novità nel panorama dei corsi lizard e sostanzialmente si tratta di una full immersion in uno stile musicale nato nella prima metà del secolo scorso e che ciò nonostante continua ad affascinare le nuove generazioni di chitarristi e non solo il gypsy jazz detto anche jazz manoush è stato inventato da un chitarrista gitano di nome django reinhardt la cui storia ha veramente dell'incredibile quindi il corso gypsy jazz performer mira ad apprendere i segreti di questo stile chitarristico è rivolto a tutti quindi a sia il principiante sia al chitarrista più esperto ed è strutturato su tre livelli alla fine di ciascuno dei quali bisogna superare un esame al conseguimento del terzo livello si ottiene il diploma gypsy jazz performer ma la vera ciliegina sulla torta di questo corso sono i gypsy jazz day ovvero degli incontri periodici di due ore all'interno dei quali tutti gli iscritti al corso potranno trascorrere appunto questo tempo insieme per suonare scambiarsi informazioni provare chitarre e soprattutto divertirsi spero di vedervi numerosi al corso di gypsy jazz performer vi saluto e buona musica ciao